Eh? La spengo perché altrimenti mi fanno il copyright. Cassa, cioè ho cambiato la radio, ho messo una Pioneer, mitica, attenzione, eh? Pannello, guarda, pannello, pandan con il colore, no? È veramente proprio colore blando, molto blando, però lavabile e non è più, come dire, cartone, no? Non è più di cartone e funziona benissimo. Con la radio è il gioco è fatto. E cos'altro? Ah, è un'ombra, fuck mira, ho già preso un shot. E questa? Ho messo anche il pezzettino, due pezzi che mi sono avanzati, no? Due pezzi che mi sono avanzati, li ho messi di qui, di là ancora lo devo mettere, penso che metterò un altro colore. Prossimamente organizzo i vetri di qua, però ho fatto la copertura anche qua dietro. Capito? Copertura, sempre stesso materiale, non gli ho messo più le viti, gli ho messo i rivetti, no? Nice and beautiful. Adesso qui questo lo devo togliere. Capito? Guarda che bello. Eh, nice and clean, beautiful e pulito. Qui per adesso ho tolto tutto e poi riorganizzo troppa roba, dai. Non si può mettere tutta quanta. Ecco, niente, questo è quanto. C'era un problema con questa porta, non so come mai. Ho finalmente messo i pannelli, non ci posso credere. E ho messo anche le casse. Sono contento per le casse perché così ne ho due di dietro, ne ho due di dietro e ho due qua sulle porte, no? Qua l'aggancio, tac, no? Trac, 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 e tutto quanto fila liscio. Questa qui la vendo, della Wish. E... E... E that's it. No? Eh, a posto. Mi sembra che abbiamo organizzato anche questa parte. Cioè, ha nevicato per tre giorni. Oggi giornata... Oggi giornata di sole, ma con vento freddo. E per tre giorni ha nevicato. Cioè, tutta la neve che ha fatto, guarda, ecco cos'è rimasto. Capito? Cioè, era tutto pieno di neve. Di nuovo... Adesso è finita. La festa. Ciao, Buki. My tiger. Cos'altro? Nient'altro? Ah, ho fatto sistemare anche sotto la... L'asse che aveva un problema con la guarnizione, ma siccome non si trovano le guarnizioni original, ha fatto il meccanico. Mi fa... Non ti preoccupare, adesso è meglio di prima. Ok. Thank you. Et voilà. Ho messo queste... Le casse, la musica, i pannelli, ed è un piccolo passo avanti. La vespa. E ancora un po' di neve. Ed eccetera. Ci sentiamo. Take care.